Sono 40 anni che vengo al Passetto, è la storia d'Ancona, quindi chi lo ama viene qua. La spiaggia d'Ancona è vicino, si trova parcheggio con lo scooter. È la spiaggia della città, un angolo di mare, due passi dal centro, un posto che nei primi weekend dell'estate non teme la concorrenza di altre zone, dalla rivera del Conero fino a Senigallia, ottava in Italia tra le migliori spiagge cittadine e con i lavori terminati a tempo di record, la spiaggia del Passetto non conosce crisi, da un paio di anni si è fatta più vanitosa e servita, grazie ad uno stabilimento, il Valentino. Dai primi di giugno insomma che è partito, sembra che stia andando abbastanza bene. Strano posto verrebbe da dire, una spiaggia cittadina affollata in una città di mare, Mancona il mare lo ha tutto intorno per non averlo a portata di mano. Non conosce crisi, dicevamo, perché cattura i giovani e resiste alle mode, chi ci va ci andrà comunque, poco conta se bisogna sdraiarsi sul cemento o sulla scalinata che porta al mare. La sabbia non mi piace, la lascio il posto ai bambini e agli anziani, io ancora mi sento in condizione di sedermi spartanamente. La spiaggia non mi ha significato granché, perché piace anche se è qui sul cemento, non è un problema. Allora viene da chiedersi se c'è qualcosa di più. Una cosa tramandata da famiglia a famiglia, io sono partito con mio nonno che veniva al passetto, veniva e penso che è una spiaggia che non è valutata. E in confronto a Porto Novo, perché tutta quella strada, avendoci una spiaggia sottoccata che c'è tutti i servizi uguali. Passetto che vuol dire grotte e grottaroli, ovvero l'eterna battaglia per conservare quei luoghi, veri e propri tesori per chi li possiede. Un tuffo in mare e il sole sulla scalinata per chiudere la giornata estiva con una passeggiata, dove ce lo suggerisce un futuro amante di questa spiaggia. Pura cesola del Papa.